gioielli ma gioielli artigianali e con noi abbiamo un artigiano marco severi che fa parte appunto del laboratorio di alberto sanarelli ad arezzo quando si parla di artigianalità che cosa si significa in un gioiello è tutto da dal disegno alla consegna del cliente si immagina no dice l'artigiano dice lì si lavora ma parte tutto da un progetto da un disegno appena il cliente entra che ha un'idea noi ci mettiamo sotto la disegniamo insieme al cliente andiamo incontro alle proprie esigenze alle nostre di lavorazione naturalmente e dopo c'è la progettazione a computer la progettazione al banco con la lima le pinze come vediamo con la lente di ingrandimento fino dopo alle rifiniture la puritura e alla consegna del cliente però anche come laboratorio voi avete anche dei qui vediamo dei gioielli già realizzati no perché anche secondo la moda no dei grandi brand immagino voi vi adattate quindi però li create da soli si ecco diciamo che lo spunto ci vuole sempre da qualche parte l'idea viene però dopo c'è la personalizzazione e la progettazione in laboratorio quindi un gioiello anche se uno prende un'idea uno spunto non verrà mai uguale perché la mano dell'artista ma è bello quella cosa che varia a volte quando c'è quell'imperfezione è artigianato cioè vuol dire che è stato fatto dalla mano di un uomo e che è diverso è come quando si fa qualcosa in casa la pasta in casa non è mai uguale no è un'altra soddisfazione poi anche la consegna anche la consegna al cliente avere dato un gioiello che hai progettato te realizzato te è una soddisfazione insomma grande certo poi casomai vai in giro li vedi anche i monili addosso alle persone no di quello che glielo ho fatto io rispetto alla vendita di un gioiello già fatto certo non è il nostro caso perché noi essendo laboratorio facciamo tutto internamente però c'è una soddisfazione diversa ecco e io sto pensando no anche al fattore stesso di scegliere una pietra voi anche siete avete pietre da proporre anche ai vostri clienti sì 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 abbiamo pietre oltre al diamante a parte qui abbiamo gioielli classici però abbiamo classici diamante va bene diamante per sempre non è sempre un valore inestivabile voglio dire no a volte però ci sono anche pietre di colore molto belle e importanti da accompagnare ai diamanti in quest'ultimo periodo specialmente ora che andiamo verso l'estate verso certo ci sono sempre colori più sgargianti più sì perché anche il gioiello va in base all'estate alla stagionalità no? sì sì si ama mettere anche i monili più colorati sì 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 e poi logicamente specialmente le donne vestendosi un po' meno diciamo e allora c'è opportunità di mettere collane di mettere anche orecchini un po' più appariscenti certo con pietre colorate allora si sa no? che c'è sempre l'evoluzione anche nel campo della gioielleria quindi si va anche a trattare materie diverse no? metalli diversi quindi voi in questo caso come vi comportate come artigiani? oggi specialmente l'oro l'argento è scontato però ci sono leghe diverse leghe ecco specialmente le firme diciamo che con la bigiotteria vanno a usare materiali tipo ottone alluminio che poi viene chiamata alta bigiotteria no? perché c'è della bigiotteria meravigliosa sì ma ci mancherebbe no no uno non parla di bellezza no? però chiaramente quando noi essendo in laboratorio e facendo anche riparazioni certo quando andiamo a fare riparazioni su questi materiali non sempre potiamo usare o la microfiamma o le pinze quindi ci siamo evoluti comprando macchinari all'avanguardia come la saldatrice a laser o la taglia il laser per tagliare anche il pantografo per incidere abbiamo comprato ora un pantografo computerizzato che ci permette di incidere dentro gli anelli fuori dai anelli nei bracciali insomma è una cosa all'avanguardia le famose scritte sì sì per personalizzare poi il gioiello che è anche quello importante la personalizzazione certo no è quella la cosa importante che effettivamente va messa in evidenza nel gioiello che la personalizzazione che si può avere in un laboratorio artigianale è unica non c'è nulla da fare e poi con questi materiali come dicevamo prima bisogna stare attenti perché con il fuoco non ci si può andare quindi va saldato a laser alcuni passaggi della lavorazione come gli acidi come le pulitrici non si possono usare quindi ecco devi sempre stare al passo con i tempi e cercare di adeguarti alle firme alla bigiotteria chi è più addetto a queste nuove tecnologie all'interno del laboratorio perché poi voglio dire una famiglia no perché l'artigianato il valore è quello della familiarità di educare chi vive intorno lui è il genere però quindi voglio dire tu hai preso un po' le redini della situazione sì 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 con la moglie giustamente il laboratorio passa da Nando che è il babbo di Alberto Alberto fino ad arrivare a me che ha fatto una femmina capito quindi voglio dire no con tutto il rispetto oggi le donne possono fare qualsiasi cosa ci mancherebbe sì sì ecco quindi chi è più avvezzo alla tecnologia diciamo con la tecnologia vado più incontro io sì sì macchina laser pantografi computerizzati anche se Alberto vedo che si interessa sempre e anche Alberto è molto diciamo all'avanguardia in questo aspetto anche per quanto riguarda internet ok già Alberto vent'anni fa già aveva messo il sito in rete aveva anche la vostra azienda è in rete cioè il vostro laboratorio sì sì comunque complimenti perché quelli sono tutti realizzati dal laboratorio Orafo Alberto Sanarelli e io ringrazio per averci presentato appunto quanto è importante il valore dell'artigiano all'interno dei gioielli e io ringrazio per averci presentato appunto quanto riguarda i gioielli e io ringrazio per averci presentato appunto il valore